Salve ragazzi, benvenuti nel nuovo video, sono Crash Game, oggi siamo su Ace of Space è lagga come una merda, quello era un amico e oggi siamo su Ace of Space, volevo fare una partitina e ne ho approfittato per registrare e utilizziamo il cecchino, vogliamo di fare qualche kill, intanto io me ne vado da qui se no, non facciamo niente è da un po' che non gioco, quindi ho perso un po' la mano, vediamo quello è un amico, e quello è un nemico fail ok, ho fatto l'assist, no neanche l'assist vedi che cazzo l'ha ammazzata, l'ho colpito eh sti vaffanculo, quella è quella la metagliatrice ci faremo una partitina, 5 minuti, dovrebbero bastare noi siamo i verdi, quindi stiamo vincendo al momento cosa cazzo sono sfaonato allora, allora ahia, 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 ahia guarda che figlio di puttana che figlio di puttana che cazzo sono sfao? ma di giusto, sarà finito evitate sto gran figlio ebbè è lui forse è morto andiamo nella base nemica a fare qualche kill non ancora ne abbia fatto neanche una vi faccio vedere com'è non so no, vabbè ragazzi, non muore uh, ok è culo, eh mi stava per uccidere ho visto proprio in me, non so la mia testa qui scopriamo ehi ok, quella è morta riga 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 che stanno dietro riga riga che stanno dietro cazzo sono cadute nel buco eh sì, quella è andata che ti ho ucciso, fratello ok ah, quella non ho ucciso ma questo è che eh, doppia uccisione eh, attenzione quello che cazzo facevo pensavo a che cazzo di canna invece di uccidermi ma quello è un nemico uh, mamma mia aia, aia, eh ma fregato in realtà abbiamo fatto già 110 di ping che connessione fantastica e dai, qualche uccisione abbiamo fatto abbiamo fatto una doppia anche una tripla andiamo sempre eh, qui l'ha fatto in un ponte andiamo, andiamo, andiamo perchè ti succede la mappa senza senso? ah, oh, che cazzo era una mina, però, stard aia eh sì aia aia eh, uh mamma mia ragazzi cosa ho fatto? mamma mia andiamo a prendermi della vita vita, 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 vita ci sono le munizioni a me serve la vita facciamoci una scala eh sì, è quello di prima forse eh, anche prima, bastardo peccato abbiamo fatto una cosa fantastica prima ok, 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 ok due minuti, due minuti cazzo ci facevi là allora, uno, due, venire da lì per chi mi ha ucciso era perso là allora, questo qui era messo qui perchè? no, lo so, so semplicemente campurato ok che poi non è senza campurare in questo gioco, dai come si deve muovere allora, allora quello del mio amico oh mi hai fatto quella cara oh che cazzo eh sì vabbè quanto quello che ho fucile a pompa mi ha distrutto gasifica insomma sì né così bene né così male dai dai stiamo per vincere mancano pochissimi punti o mai la vittoria è nostra si può dire è quello? ok eh 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 dove pensi di andare eh? ah ah bastardo bastardo non l'avevo visto che cosa ci facevalle? brutto bastardo eh adesso lo rubano di attacco ultimi minuti ma non ci prenderanno mai almeno spero se il mio team è abbastanza intelligente Ammazziamo Eh eh Ti ho visto Oh mio dio Se lo uccisevo così Senza minare E non pro Comunque Ho detto di non fare minchiate E poi l'ho fatta io Perfetto Sì ma che Oh mio dio che Bastante Sono messo lo spawn Eh cazzo Lo spawn kill In questo gioco Lo odio Dimmi che se ne sono andate Io sono Ok Ho vinto io Oh Abbiamo vinto Ho vinto io Abbiamo vinto Ho vinto il premio Avarizia Spera mi avete Dai Perché Comunque ragazzi Questo video di 6 minuti Finisce qui Adesso ne farò subito Un'altra partita Ehm Ragazzi Spero che vi sia piaciuto Like Commentate Grazie al canale Se ho ancora veramente fatto Bella